Si è spenta l'ultima speranza di trovare altri superstiti tra le macerie della terribile esplosione avvenuta sabato sera a Ravanusa per una fuga di gas. E' stato infatti ritrovato dai vigili del fuoco anche il corpo del 33enne Giuseppe Carmina, figlio di Calogero, il cui cadavere è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. I cadaveri si trovavano nel garage della palazzina crollata per la violenta esplosione. Erano gli ultimi due dispersi dell'esplosione di Ravanusa che ancora mancavano all'appello. Nove le vittime finali di una strage che non era preannunciata. Tra loro anche la trentenne infermiera Selene Pagliarello al nono mese di gravidanza con il marito 35enne Giuseppe attendeva il piccolo Samuele che sarebbe nato entro una settimana. Intanto i vigili del fuoco stanno accompagnando dove possibile alcuni dei residenti all'interno delle loro abitazioni danneggiate per tentare di recuperare oggetti ed effetti personali. L'ingresso è possibile soltanto con i caschetti di protezione. Intanto proseguiranno anche oggi gli esami autoptici sulle salme delle vittime. Il medico legale incaricato dovrà poi relazionare alla procura di Agrigento che ha aperto fin da subito un'inchiesta per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. I magistrati si sono affidati ad un pool di periti che sta già studiando le mappe della rete a gas metano di Ravanusa e che ha già fatto accesso nell'area della strage. I periti hanno un ampio mandato e quindi torneranno più volte in via Trilussa così come nelle vie della pace Galileo Galilei e Nuoro. L'area della tragedia, circa 10.000 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro ieri sera dopo che sono state estratte le salme degli ultimi due dispersi. Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, ha proclamato da oggi il lutto cittadino. Solidarietà è arrivata anche dal premier Draghi e da Papa Francesco. Ma il dolore non si potrà mai cancellare.